Adam, ho bisogno di una pazza Ho bisogno di una pazza Adam, possiamo parli? Qui l'americano Il caffè è rovente, guarda come fumo Te lo servono da queste macchinette del cazzo In genere non esistono le brioche Ma ci sono queste cose qua ultrachimiche Ti faccio soltanto, guarda la consistenza di questo Guarda cosa sembra Sembra che c'è un cagato dentro E' uno schifo unico Io la vaselina per chi vuole essere sparato dal buco e fumo Adesso paggo il caffè e il muffin Il muffin Lì ci sono gli stress per esempio Guarda il colore, pensi che ci sia qualcosa di naturale Lì dentro, guarda, dal basso verso l'alto Qui poi mangiano queste troiate Tipo snack veloci Poi energy drinks A manetta Il giornale su Hulk Hogan Ai buffi La cosa più orripilante degli Stati Uniti Gli snacks Le patatine Guarda, guarda che schifo Tutti con la loro salsina Fritos Ti faccio vedere un esempio Questo è il cancro fatto a snack Poi Poi qua abbiamo Cinnamon Rolls Guarda che colore Sembra che ci hanno sbordato dentro Ci sono le patatine Guarda altre patatine A manetta Solo patatine Guarda queste Tu mi daresti mai da mangiare questo Guarda, guarda il colore Guarda questo Sono allucinante Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda 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 Guarda